Musica Prosegue l'Università di State and Intelligence a Soverei Mannelli con una lezione di Alessandro Ferrara della Presidenza del Consiglio dei Ministri per approfondire i temi relativi a questa disciplina scientifica che bene venga riconosciuta al più presto all'interno dell'Accademia Italiana. L'Università della Calabria da quasi vent'anni sta sviluppando questi studi e ritiene che sia fondamentale farli riconoscere a livello nazionale. Non a caso abbiamo per primi avviato un Master in Intelligence e anche un corso di laurea in Intelligence. Questo significa che sviluppare la cultura della sicurezza in un territorio come quello meridionale, come quello calabrese, può essere particolarmente importante. Ma questo risponde anche a una esigenza decisiva di questi tempi che richiedono in maniera determinante la capacità di interpretare le informazioni rilevanti per poter comprendere la realtà che ci circonda e l'intelligence è la chiave. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.